Salve a tutti, oggi andremo a parlare di una nuova serie tv ovvero The Purge Se conoscete i film della notte del giudizio e vi son piaciuti tantissimo come son piaciute a me Allora non potete perdervi questa serie Perché infatti The Purge è la serie televisiva della notte del giudizio La storia però non è assolutamente collegata ai film che abbiamo visto Nel senso che abbiamo protagonisti diversi ma la storia insomma è sempre la stessa Si parla sempre dello sfogo E quindi inizia dal 4 settembre se non sbaglio questa serie che potete trovare su Amazon Video Però soltanto in inglese, arriverà in italiano soltanto a fine novembre Quindi se hai masticato un po' di inglese insomma vi consiglio di guardare in inglese Altrimenti attendete insomma che arrivi in italiano Comunque sia questa non sarà una recensione molto spoiler Anche perché il primo episodio devo dire che è stato molto ma molto introduttivo Ci hanno mostrato insomma i personaggi principali che dovranno vedersela con questo sfogo Abbiamo visto insomma come si sono organizzati un po' tutti per prepararsi alla notte dello sfogo Che per chi non lo ricordasse o per chi non sa cosa sia In pratica in America l'illegalità viene legalizzata per ben 12 ore Quindi si possono uccidere persone, si possono rubare negozi Insomma si può fare un po' quel che si vuole Ecco perché si chiama la notte dello sfogo E non del giudizio che non ho capito perché si chiama notte del giudizio Comunque sia secondo me potrebbe essere una serie molto molto interessante Non so sinceramente come insomma potranno poi esserci stagioni più avanti Perché comunque questo sfogo dura 12 ore Quindi anche volendo insomma per questa stagione fare ogni ora un episodio Che ci starebbe benissimo Ma non capisco poi come potrebbero fare altre stagioni A meno che ogni stagione avrà diversi protagonisti Quindi così andremo un po' a vedere come varie persone se la cavano nello sfogo Proprio così andrebbe a essere un po' ripetitivo E non so fino a che punto potrebbe funzionare Ma insomma queste poi sono domande che ci faremo successivamente Per ora insomma questo primo episodio mi è garbato Insomma ci sta, è stato molto introduttivo Abbiamo visto personaggi di vario genere Abbiamo visto praticamente solo un personaggio E entrare un po' più nel vivo dell'azione già in questo primo episodio Cioè quel ragazzo di cui devo ancora imparare i nomi Che sta cercando la sorella Che molto probabilmente rischia la vita E poi vedremo gli altri Vediamo gli altri cosa faranno C'è una donna che lavora in un grande edificio Quindi una donna benestante insomma Che sicuramente si metterà nei guai Perché è molto molto particolare Poi c'è quella coppia che è andata a quella festa dei padri fondatori Cioè i padri fondatori sarebbero quelli che hanno dato vita a questa notte A questo sfogo E che sono immuni insomma da questa notte E quindi non possono essere uccisi Altrimenti chi insomma li uccide Non se la passerebbe molto bene Comunque ripeto Primo episodio molto introduttivo Dal secondo penso vedremo un po' più di cose interessanti Secondo me ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima serie Non mi aspetto di certo un capolavoro Voglio semplicemente una serie che mi riesca insomma a intrattenere Non ho grandi pretese insomma E quindi speriamo Speriamo bene Secondo me si può fare una bella serie Ogni episodio per ora uscirà una volta a settimana Il mercoledì se non sbaglio E quindi ragazzi se anche voi avete iniziato a vedere questa serie Fatemi un po' sapere cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto E vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il gruppo Telegram Dove potete unirvi per continuare a parlare di questo e di molto altro Detto questo ragazzi ci vediamo un settimana prossima Con il secondo episodio di questa nuova serie Ciao a tutti